Popolo, ma neanche un popolo, come due popolo, guarda, Marone, come mi ha tenuto i camion, come me l'ha tenuto, grazie, grazie, guarda, me l'ha tenuto veramente un gioiello, Marone. C'è anche il film, Slav, brava gente, guarda la fiancata, liscia, lustra, linda ma pulita, guarda la punta, ho sempre detto io, come i Slav. Come i Slav. Tirgen! Chi è? Ciao, Tirgen, grazie ancora di tutto. Ecco.